lanciate i missili che stupidi, non sanno che potrei distruggerli in un attimo ma come mai non arriva quella specie di robot, sono venuto per lui fuoco è incredibile, i nostri più moderni missili non gli fanno assolutamente niente io so chi ti fermerà, aspetta che arrivi il traider e ti pentirai sono venuto qui solo per incontrare quel dannato robot cosa aspetta ad arrivare? il driver capo, l'abbiamo di fronte, l'ho visto signor kakikogi e non mi mette paura faccia attenzione capo, sarà un grosso battaglio allora preparatemi anche voi per il combattimento ora cambio fase di volo, contatto accendere i reatori, cambio cosco 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 non la po l'ha la tabella ho fatto una idea del giro no ha 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 no 3 brighiamoci il trader sta per essere sconfitto stupidaggini il trader è invincibile presto vedrai che sto feffato la mia povera testa si devo togliere il trader da questa situazione si è il papa è forte mi divertirà di più distruggerlo no non spero niente male devo riconoscere che sei in gamba ma non farai di più no ti piace il gioco pesante d'accordo allora l'arma di trader forse credevi di combattere con uno dei soliti mega robot eh le notizie allarmanti provengono da una delle nostre basi del polo sud che è stata attaccata distrutta da un mega robot purtroppo non possiamo darvi dei dati più precisi in quanto la località in cui si trova la base è un segreto militare il trader g7 subito corso a difendere ed è impegnato in una battaglia mortale vi presentiamo adesso le immagini più drammatiche di questo combattimento oh vada sapeva che c'era vada la televisione oh ma quello è il trader forse vada distruggi quel dannato mega robot ma come bravo vada non è vero non è il caso che tu veda uno spettacolo violento come questo cao queste immagini sono riprese dal vivo il trader g7 è impegnato al massimo da nove volte se perde questa battaglia la terra si dovrà arrabbiare raggio basta io ti proteggerò caoru oh antitrader la salvezza della terra dipende da te non possiamo intervenire se il trader non si sposta rischiamo di colpirlo si tenga sempre pronto signor kinoshita appena vede il momento opportuno lanci mi il capo è in una brutta situazione quel mega robot è un fuori costo oltretutto il trader da un momento all'altro rimarrà senza carburante è partito con i serbatoi pieni a metà non le viene nessuna idea assoluta calma oh il nostro amato capo il nostro amato capo noi vada stiamo tutti con te il trader non può perdere me la signorina mia forza vada oh mio mio dolce vada sono sicura che ce la farai no ciao no no e' fortissimo! Distruggi quel megalomone! Noi siamo tutti con te! adesso lo distruggerò per sempre! Così potrò diventare il padrone assoluto incontrastato della terra! ahahahahahahahahah hai capito stupido? hai capito stupido? ti l'hai chiamato stupido non te lo perdonerò mai! la colpa dei miei successi e' tutta tua Zakuron e io te la farò pagare, te lo giuro! Zakuron è arrivato il momento della resa dei conti hai sempre voluto combattere secondo le istruzioni del grande computer e io adesso ne modificherò i programmi! ahahahahahahahahaha e' arrivata la tua ultima ola! questa e' una delle missioni i piu' importanti! dobbiamo essere pronti a dare la vita per il capo! Kakikoji non e' caso di fare tanta scena, usi la testa invece! quel mega robot sta combattendo secondo un programma prestabilito! guidato da un computer! guidato da un computer? ho analizzato ogni sua mossa e ho visto che tutte rientrano in uno schema prestabilito! caro trader abbiamo trovato un osso molto duro ma dobbiamo spuntarla a tutti i costi! caro trader finalmente l'occasione che cercavamo! lanciate i missili! capo attacchi adesso! grazie il vostro intervento è stato provvidenziale! missili nucleosintetici! catena di traighe! catena di traighe! ma il computer non aveva programmato un loro attacco! russa elettronica! oh! ancora e' assurdo! ha eseguito esattamente tutto quello che il computer ha ordinato! manca poco la tua figlia esapolo! ci siamo! non hai più scatto ormai! perchè? il computer non aveva mai sbagliato! ah! perchè? attacca aquila di trader! e adesso e' ora di finirla! no non voglio ne čia! no non voglio ne čia! e adesso e' ora di finirla! aargh! 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 è riuscito a scappare con una capsula spaziale fermo capo è meglio che non sia lontani non vogliamo che corre rischi inutili controlli prima il carburante dovrebbe essere quasi finito che combattimento, le ossa a pezzi però non riesco a capire una cosa non si può sfuggire all'attacco dell'aquila di Trider e allora lui come ha fatto? capo! ti ricordo che deve ancora fare i compiti per domani attenzione, attenzione il Trider sta per decollare siete pregati di allontanarvi dalla zona di lancio immediatamente potrete tornare al parco tra pochi istanti vi porterò tutti sempre nel mio cuore, questo è il mio simbolo Spero che un giorno non lontano tutti gli uomini possano dire ho vissuto veramente Bride G7, Bride G7, Bride G7, Omae wa Utsu no mu tekirobo